Magno Il top Allora vi ricordo che non ho niente contro questo bambino che ha fatto questo video comunque Vi lascio giù in descrizione il suo video insieme ai miei social Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto Iniziamo Per aver seguito questo video su youtube anche se non l'avete visto fa niente Per aver seguito questo video anche se non l'avete visto fa niente mettete mi piace Promettetemi a me non mi piace da Oh mi piace Oh no Mica 50 Oh mi piace Dai su Oggi impareremo come non farsi scoppio quando fumo una sigaretta Utilissimo Per esempio quando Vostra madre vostro padre i vostri fratelli maggiori Tutta la sagra famiglia il cane l'elefante la tigre il topo tutti Stanno dormendo prendete una sigaretta Solo se stanno dormendo tornando non si è capito niente quindi Se dormono stanno tornando prendete una sigaretta a caso Ma perché dovrei farlo ma perché Dal balcone la butti per strada e buttate le sigarette Bene Per non far lasciare segno di cenere o di nerezza Sopra dal balcone Di cenere o di nerezza La nerezza è quella più che ti fa sgamare Di nerezza sul balcone Oppure se avete una terrazza fate una scappatina Sopra portatevi o delle rotem Delle rotem? Che cosa sono? Che quando fumi non ti senti odore di niente Ma quando una persona apre la bocca Ti senti a come se avessi mangiato una caramella Ma cosa? Ma non capisco cosa stai dicendo Però se voi non avete rotem Spendete gomme air Così Air Appena finito Mi sciacquate la bocca con la gomma Mi sciacquano la bocca con la gomma Cioè metto la gomma poi Bevo Bevo L'acqua guizza Gomme rarararar E acqua guizza Perché sì Perché è buona l'acqua guizza Oppure se non avete come in casa questa madre dice che Sono solamente porcheri coloranti e zucchero molto acido Ma cosa? Ma cosa stai dicendo? Oddio Andatevi a lavare i denti con col gratta e torta E mettete un collettorio alla menta molto forte Coccate i total Il collettorio alla menta molto Cioè scrivete Appunti Mi raccomando Grazie a tutti per aver seguito questo video Prego Aspetta Ricordate Oddio Il regista Bravo A te Di metterci Un Mi piace Me l'hanno detto loro Allora ragazzi Per questo video Ricordatevi di mettere un Mi piace Ricordatevi di mettere un'